Ci troviamo nello stabilimento di Itala Pilsen a Padova, è un giorno particolare perché la birra padovana per eccellenza compie 100 anni. Siamo qui per festeggiare il centenario di Itala Pilsen qui a Padova dove nel 1919 nasce questa birra e dove tuttora è prodotta. Siamo qui proprio nel cuore dello stabilimento. Ma come nasce questa birra? Questa birra nasce da una storia d'amore perché nasce in piazza Insurrezione per mano di Arrigo Olivieri, un noto padovano che dopo gli anni della grande guerra decide di dedicare a Padova e Padovani una birra di qualità superiore, Itala Pilsen. La curiosità è il fatto che abbia dato questo nome a questa birra per dedicarlo all'amore della sua vita, a sua moglie che si chiamava appunto Italia. E Pilsen invece perché è un omaggio a quella che è la più antica tipologia di birra chiara e tuttora Itala Pilsen è proprio una birra Pils di puro malto non pastorizzata. Ed è una birra che continua a caratterizzare e ad accompagnare la vita dei padovani. Non a caso abbiamo scelto proprio di festeggiare questo importante anniversario proprio qui nel cuore. Dove passano furgoni con bidoni di birra su e giù. È buona sta birra, sì. Ottima. Il mio stabilimento Itala Pilsen di Padova per festeggiare i cento anni di questa birra. Buongiorno mattina. Buongiorno mattina.